Coronavirus, prevedibilmente cresce il numero dei contagiati, si è giunto una settantina di casi computati nel Cremonese, oltre 300 in tutta la Lombardia, tre pazienti però sono stati dichiarati ufficialmente guariti e dimessi dall'ospedale maggiore di Cremona. A livello regionale sei bimbi risultati positivi al tampone, due di questi sono di Soresina. In quarantena in via precauzionale la ventina di alunni di un'intera classe era la scuola elementare dell'Immacolata di Soresina, dato che fino a giovedì scorso è stata frequentata da un alunno ricoverato nei giorni scorsi a 6 mili genitori presso l'ospedale di Bergamo, benché già rientrati tutti a casa e in ottima salute i componenti della famigliola. Le case di riposo, quindi anche Cremona Solidale ovviamente riapriranno le visite ai familiari a partire dal prossimo 2 marzo, benché limitandole a una persona per ospite, l'ingresso sarà vietato solo a chi abbia avuto contatti con la zona rossa, segno di un territorio che sta cercando di tornare alla normalità. Disavventure invece per due cremonesi, ad uno è stato rinviato telefonicamente adattato a destinarsi un intervento chirurgico già in precedenza programmato presso una clinica riminese, un'altra si trovava tra i passeggeri bloccati dall'autorità delle isole Caiman in crociere, essendo vistato un membro dell'equipaggio della nave raffreddato ma di influenza comune e già guarito. Sabato torna in campo anche la cremonese contro il Cittadella, però porte chiuse per la settima giornata di ritorno del campionato, lo ha deciso la Lega di Serie B, provvedimento condiviso anche per altre tre partite.